Cambiare le pensioni per dare lavoro ai giovani è questo lo slogan della manifestazione organizzata da CGL, CISL e Will Palermo in piazza Ruggero VII per chiedere al governo la modifica dell'attuale normativa sulle pensioni. Una normativa che ritarda l'uscita dal mondo del lavoro e conseguentemente non aiuta ad abbattere i livelli di disoccupazione giovanile che nella provincia di Palermo toccano punte del 60%. A prendere la parola nel gazebo installato davanti al Teatro Politeama sono stati il segretario generale della CGL Palermo Enzo Campo, il segretario generale CISL Palermo Trapani Daniela De Luca e responsabile Will Palermo e componente della segreteria regionale Will Gianni Borrelli. Presenti inoltre Monica Genovese di CGL Sicilia, Giorgio Tessitore di CISL Sicilia e Giuseppe Raimondi di Will Sicilia. La legge Monti Fornero sulle pensioni, spiegano i sindacati, è stata la più grande operazione di cassa fatta sul sistema previdenziale italiano. Sono stati prelevati nel periodo 2013-2020 circa 80 miliardi di euro con una manovra economica fatta a danno dei lavoratori e dei pensionati su un sistema giudicato sostenibili da tutte le istituzioni nazionali e internazionali. Questi interventi hanno introdotto elementi di eccessiva rigidità nell'accesso alla pensione generando problematiche che ancora oggi aspettano una soluzione definitiva. Per CGL, CISL e Will è necessario dunque un intervento di riforma che dia certezze ai lavoratori e alle lavoratrici e restituisca una parte delle risorse risparmiate sulla loro pelle per riaffermare solidarietà, flessibilità ed equità. Tale riforma è urgente anche per sbloccare il mercato del lavoro e offrire occupazione ai giovani pesantemente penalizzati dall'attuale normativa, sia per il loro futuro pensionistico che per il blocco del turnover.